good morning sì qui in realtà è l'1 a meno 20 sì mi sono sveato rettente poco fa quindi dico che già pomeriggio si arriva il future noon stanchezza accumulata mister master maestro o semplicemente david lynch it's april 12 2022 and it's a tuesday here in naples six and two and six five not around 17 celsius and this means that it's that day really 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 soft like these days and this period per me anche orto perché sembra quasi un clima estivo summer climate better than spring climate sì per quanto non c'è nel video toots del giorno nel caso lo faccio penso di no ma vediamo penso di no comunque se vi interessa sempre separato da questo quindi occhio non so se si vede bene da qui ma i think that it's after noon ma c'è after noon si penso abbia qualche ora comunque la temperatura potrebbe salire qualche grado ma vedremo the really important thing in this atmosphere is that today we have we have those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way bene così che dire in questi casi già gliela avevamo anche altro ieri se non ero ma speriamo di continuare con questo trend per cui said this so from this other mythical window with the pink flowers the white curtain the gray roller shooter not visible matt tools come se fossi sempre li from the mythical window with the red orange blue green water curtain and it's a green roller shooter behind me on the top hot visible and in factor in the shot and finally from the mythical keyboard amadi gx 640 ipg ipg 625 a great day in the world people followers and the reports un saluto davvero a tutti and the world so a great breakfast everyone io la farò tra poco il mio stomaco bronto sentite non so il vostro e cui si ci diamo al video tutti in caso le faccio ma non credo o domani a tutti i chiud